Autostrada dei Fiori e Kodakons hanno avviato il progetto Esperienze di Viaggio, che ha lo scopo di sviluppare miglioramenti dei servizi nella tratta autostradale Savona 20 Miglia e accrescere la soddisfazione dei viaggiatori. Un'iniziativa creata ad hoc per ascoltare i viaggiatori che in tempo reale possono inviare segnalazioni, osservazioni e suggerimenti inviando una foto e commenti al numero 334 28 52 963 e all'indirizzo mail viaggimigliori-autofiori.it da non utilizzare per segnalazioni di emergenza in quanto non vengono letti in tempo reale e se si è alla guida del veicolo. Sul sito dell'iniziativa centrostudicodakons.it è disponibile un sondaggio per approfondire l'opinione dei viaggiatori sulle più importanti questioni legate all'esperienza autostradale. Autostrada dei Fiori inoltre mette a disposizione dei partecipanti un simpatico omaggio dedicato alla sicurezza stradale. Info su autostradadeifiori.it Esperienze di Viaggio è anche su Facebook, Twitter e Instagram. Al prossimo episodio